benvenuti in questa guida top 7 cibo umido per gatti di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo whiskas selezione gustosa in salsa questo cibo umido per gatti whiskas è una vera delizia il gusto è eccezionale e i miei gatti lo adorano la salsa aggiunge un tocco di sapore in più rendendolo ancora più irresistibile ottimo rapporto qualità prezzo punteggio 80 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo purina gourmet perle filettini in questo cibo umido per gatti è delizioso il mio gatto adora i filettini di pollo in salsa e le buste da 85 grammi sono perfette per un pasto la qualità è eccellente e il prezzo è ragionevole lo consiglio vivamente punteggio 82 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo purina gourmet perle filettini in questo cibo umido per gatti purina gourmet perle è una vera delizia il mio gatto adora i filettini in gelatina con trota tacchino anatra e selvaggina la confezione da 96 buste da 85 grammi è pratica e comoda da conservare ottimo prodotto punteggio 86 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare marchio amazon lifelong cat questo cibo umido per gatti di amazon lifelong è una buona scelta la confezione da 32 x 100 grammi offre una varietà di sapori e consistenze che i miei gatti adorano il cibo è ricco di nutrienti e ha un ottimo sapore lo consiglio vivamente punteggio 87 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo purina felix le ghiottonerie cibo delizioso i miei gatti adorano questo cibo umido il gusto del manzo pollo merluzzo e tonno è irresistibile per loro la consistenza morbida e cremosa è perfetta per i loro denti ottimo rapporto qualità prezzo punteggio 85 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo marchio amazon lifelong cibo questo cibo umido per gatti di amazon lifelong è un'ottima scelta per i proprietari di gatti la selezione di anatra pollo tacchino e manzo in gelatina è deliziosa e nutriente i sacchetti da 85 grammi sono pratici da usare e conservare il mio gatto adora questo cibo punteggio 96 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica purina gourmet gold mousse cibo questo cibo umido per gatti purina gourmet gold mousse è delizioso il mio gatto lo adora la consistenza cremosa e la ricca salsa di manzo sono irresistibili le lattine da 85 grammi sono perfette per un pasto o uno spuntino un'ottima scelta per i gatti più esigenti punteggio 91 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale